Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questo è un nuovo glitch dei soldi Il glitch dei soldi che vi ho portato qualche giorno fa è ancora funzionante Ma questa è una versione diversa, o meglio è uguale a quello ma è leggermente diverso e anche più facile Allora il primo requisito che dovete avere è stare in una sessione solo a inviti Il secondo requisito che dovete avere è la mira manuale ragazzi Quindi dovete stare in mira manuale sia voi che il vostro amico Il terzo requisito dovete avere due centri operativi mobili, voi e il vostro amico E nei centri operativi mobili il vostro amico deve avere un'auto qualunque E voi che fate il glitch è la LG RH8 Poi il quarto requisito ragazzi, voi che state duplicando dovete avere l'auto da duplicare In questo caso una LG Retro Custom e il vostro amico dovrà avere un'auto personale con cui aiutarvi a fare il glitch Quindi a questo punto quando abbiamo tutti questi requisiti possiamo partire per il glitch Allora ragazzi in questo caso io sono il vostro amico O meglio quello che vi deve aiutare lo sto facendo io Quindi in questo caso io sono il vostro amico Il vostro amico dovrà avvicinarsi al suo centro operativo mobile Quando vedrà spuntargli la freccia ovviamente Andrà a selezionare amici Andrà su amici come ho fatto io Andrà su un amico che sta giocando a GTA Online Entrerà in queste schermate E andrà a fare partecipa ragazzi Dopodiché immediatamente dovrà premere la freccia destra Gli apparirà deposito veicolo personale pieno Dovrà fermarsi in questa schermata una ventina di secondi Il tempo che gli arrivi il messaggio di partecipazione all'altra sezione ragazzi Quindi a questo punto passati i 20 secondi Va ad accettare l'invito E rimane in questa schermata Una volta che diciamo il vostro amico è in questa schermata Può uscire nella dashboard come sto facendo io Comunque sia deve sempre rientrare A controllare se il glitch in pratica sta andando bene Ovvero se ha sempre questa schermata Il glitch sta andando bene Se ovviamente questa schermata non c'è più Il glitch ovviamente sta andando male Voi dall'altra parte Avrete un piccolo flash E dovrete dire E sarete diventati ovviamente invisibili Dovete dire semplicemente al vostro amico Di prendere e di uscire da quella schermata E' abbastanza semplice il passo Quindi a questo punto Una volta che il Diciamo il vostro amico è uscito dalla schermata Voi scenderete dall'auto Vi dirigerete verso la vostra auto ragazzi Perché oramai Cioè non vi resta anche fare quello insomma Mentre il vostro amico Entrerà nel suo centro creativo mobile Voi salirete sulla vostra auto Il vostro amico dovrà In questo caso io sono l'amico ragazzi Andare nel creatore Voi avete un piccolo flash Mentre il vostro amico uscirà dalla sessione E avrete la duplicazione fatta ragazzi E' abbastanza semplice come glitch E' molto più semplice rispetto a quello delle granate Quindi approfittate del glitch Ho trovato un metodo Che fosse stato un po' più facile per tutti Anche perché l'altro aveva bisogno di tempistica E questo no Quindi detto questo ragazzi Un saluto a tutti E al prossimo video 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 E al prossimo video